A Kiev i ragazzi non possono andare a scuola in santa pace, c'è la guerra che incombe sulle loro teste. Droni e missili sempre in agguato e stamattina nelle scuole della capitale è scattato un altro allarme bomba, come tre giorni fa, inizio dell'anno scolastico. Una routine di angoscia e frustrazione. Passano i mesi, gli anni e si resta inchiodati a questo delirio. La notte scorsa la solita pioggia di droni, quasi tutti intercettati. Bombe sulla regione di Zaporizia e su Odessa, colpito il distretto di Ismail, dove si trovano i porti ucraini sul Danubio, rotta alternativa usata dagli ucraini per esportare il grano dopo il blocco del Mar Nero. Bombardare infrastrutture civili, agricole in questo caso. Putin fa così ogni volta che sta per incontrare qualcuno con cui negoziare qualcosa. Oggi a Sochi riceve Erdogan che ha mediato l'accordo sul grano, con il sostegno ONU, unico vero successo diplomatico di questi mesi. Ma i due tratteranno pure la fornitura di gas russo all'Europa attraverso la Turchia. Affari miliardari che scatenano l'avidità dei potenti. Un grosso problema anche per l'Ucraina. Il mare di soldi che gira intorno alle forniture di armi, le voci e i sospetti di mazzette e appalti di comodo, è costato il posto al ministro della difesa, Reznikov. Zelensky l'ha sostituito con Rustem Umerov, tataro di Crimea, cioè uno che viene dalla minoranza turca islamica della penisola annessa da Putin nove anni fa. Vero inizio di questa guerra, che si combatte anche con armi finte. Kiev emette come esche sagome di cannoni e camion fatti di plastica, cartone e metallo per costringere i russi a sprecare munizioni. Intanto però il sangue continua a scorrere davvero.